Ciao, siamo qui alla Maker Faire di Roma con Gabriele Diarro, che ci presenterà un paio di progetti in cui sono presenti dispositivi di ST Microelectronics. A te la parola, Gabriele. Beh, innanzitutto ciao a tutti, benvenuti a Maker Faire. Parlando di ST, in effetti ST è presente in moltissimi dei nostri progetti, non solamente in quelli di cui vi parlerò. Con ST abbiamo sviluppato tantissime collaborazioni. Qui a Maker Faire ne abbiamo un paio che puntano particolarmente sui microcontrollori ST. Come potete vedere c'è un generatore di segnali e uno sceloscopio digitale basato su un Cortex M7, che utilizza in particolare anche le librerie grafiche Touch GFX, e un misuratore di distanza basato su un M4 con il software integrato. Questa applicazione è particolarmente indicata, stavo spiegando a Clara, per quando si parcheggia, per evitare di graffiare le macchine. Ecco, queste sono un paio delle demo che stiamo presentando qui, ma vi invitiamo a venire a visitarci per vedere tutte le altre applicazioni in cui impieghiamo i componenti ST. Ciao a tutti!